Adesso abbiamo visto un pezzo da Natalia Gisburg e adesso andiamo a finire da un'altra parte. Andiamo a finire, pensa, davvero da un'altra parte del pianeta Terra, perché andiamo in Uruguay. Perché dall'Uruguay viene un drammaturgo vivente, contemporaneo, bravissimo, che si chiama Sergio Blanco. In Italia l'abbiamo imparato a conoscere da poco, ma in questa stagione teatrale un importante, forse uno dei più importanti teatri italiani, il Piccolo Teatro di Milano, metterà in scena un testo di Blanco con un attore che è già venuto l'anno scorso qua da noi a Ricomincio da R3 e che noi abbiamo accolto a braccia aperte perché non è amato soltanto da noi, ma anche da tutto il pubblico italiano. È la storia di un curioso rapporto a tre fra lo scrittore, una dottoressa e, udite udite, un gorilla. Quindi lo posso dire? Lo puoi dire. King Kong, ma ha detto non dire King Kong perché se no... E invece ha detto... Lino Guanciale. Si può amare un gorilla. La prima volta lui era solo nella sua gabbia ed era occupato a osservare minuziosamente uno dei suoi avambracci, così. E io mi fermai all'entrata a guardarlo un momento a distanza. E era strano. Fu strano. È strano. E io non so come dirlo, ma proverò a spiegarlo, anzi a spiegartelo. Io mi sono avvicinato a te e ti ho guardato negli occhi. E i tuoi occhi già mi guardavano, già mi stavano guardando. E così fu che ci guardammo per la prima volta. Come ci stiamo guardando adesso. I nostri sguardi si incrociarono. E io non sapevo che cosa dirti. Allora mi è venuto da fare un gesto. Questo. Di portarmi il pugno destro all'altezza del petto e darmi un piccolo colpo. Così. E non avevo ancora finito di farlo che tu hai fatto lo stesso. Ma proprio lo stesso gesto. Esattamente lo stesso. Ed è così che è cominciato tutto. Poi non ho voluto dirti più niente quel giorno. Non c'era bisogno di dirti niente. Ho fatto qualche passo indietro e dopo poco sono andato via. Ed allora tutte le mattine io mi sono alzato all'alba. Ho fatto colazione, ho fatto una doccia. E poi sono scappato al giardino zoologico per stare con lui. Perché mi succedeva qualcosa che non mi succedeva più da un sacco di tempo. Perché soltanto quando ci guardavamo, io e lui. Lui nella gabbia. Io dall'altra parte. Qualcosa si acquietava dentro di noi. E mi ricordo di quel giorno che ho voluto iniziarlo al cinema. Ho chiesto alla dottoressa Rosenthal se potevo montare un meccanismo per fare delle proiezioni. E anche lei e la sua squadra erano interessati a vedere le sue percezioni, come funzionavano a contatto con le immagini bidimensionali. Quindi dopo che gli ebbero fissato addosso tutta una serie di elettrodi e di magneti, io potei fare clic sul bottone e far partire la proiezione. Il film era King Kong. E lui rimase incantato da tutto quel dispositivo. Si affezionò subito a tutti i personaggi. Ma poi è chiaro, quando entrava in scena lui, o meglio il suo simile, il suo altro io, tutto il suo essere si protendeva verso la superficie della proiezione. Quello è King Kong. È un personaggio meraviglioso. Non è cattivo, no, anzi, è molto simpatico. Sono gli altri che cercano continuamente di aggredirlo. Lui pensa soltanto a difendersi. E sta lì, in quella città, New York, in quel posto, Manhattan, dove è pieno di grattacieli, grattacieli, sì, quelle case molto alte. Quella, per esempio, è l'Empire State. E quella lì, bionda, è la sua fidanzata. Guardala, si chiama Anne. L'attrice che la interpreta, quando ha ricevuto la proposta da parte del regista, si è sentita dire che il suo partner sarebbe stato il più alto, bruno e virile di Hollywood. E lei ha pensato che parlassero di Clark Gable. E poi ha letto il copione e ha capito che si trattava di un gorilla. Ed allora abbiamo cominciato a vedere un film dopo l'altro. Tanto lui si era animato, eccitato. Io, lui, la dottoressa Rosenthal, passammo i giorni successivi a guardare insieme tutti i film di Fellini, di Fassbinder, di Truffaut, di Rossellini, di Bergman. E poi arrivò un giorno in cui non ci vedemmo più. Per molto tempo. Colpa mia. Colpa della dottoressa. Non colpa sua. Eravamo tutti e tre molto tristi. La dottoressa non poteva andare avanti con le sue ricerche ed era piombata in uno stato di frustrazione. Io? Io non potevo più scrivere, ma soprattutto, mi mancava lui. Volevo vederlo. Era la cosa che più desiderava al mondo. E quello che soffriva di più, però, era proprio lui, perché io e la dottoressa avevamo delle parole per dire quello che stavamo soffrendo. Lui no. E passò quei giorni da solo, accovacciato, in un punto lontano della sua gabbia di vetro. E la dottoressa usciva dal suo appartamento solo per andare al supermercato. E io passavo ore e ore steso sul letto a guardare il soffitto. Ma tutti e tre, nelle nostre solitudini, perfette e parallele, ascoltavamo gli Amproptus di Schubert. E una sera ricevete una lettera. Era la dottoressa Rosenthal che mi chiedeva di tornare al giardino zoologico e mi scriveva Signor Blanco, io le chiedo scusa perché molte delle cose che mi ha detto erano vere. Probabilmente è vero, io covo dentro di me un senso di profondo dispiacere per il legame che lei è riuscito a costruire con lui e che io evidentemente non ce l'ho fatta costruire per via di quella freddezza di cui lei mi parla. Sono tante le cose che io non vedo e adesso siamo tutti e tre tristi e soli. Signor Blanco, mi manca guardare con lei un Rembrandt e sentire che me lo spiega. Mi manca sentire lei che mi parla di Tal Stoi. Mi manca sentire che mi parla di aneddoti, di poeti medievali. Signor Blanco, come faceva a sapere che tutti e tre stavamo ascoltando gli Amproptus di Schubert? Signor Blanco, sono io che sogno lei e lei che sogna me. Capiremo mai chi sogna chi. e io le risposi gentile dottoressa, grazie per la sua risposta. Tornerò al giardino zoologico. Per quello che mi riguarda mi manca moltissimo sentirla parlare di cose che non conoscevo, come il genoma o la sequenza molecolare. Quante ai sogni è probabile dottoressa che tutti noi al mondo siamo il sogno di qualcun altro che non si sveglierà mai. Lino Guanciale! Lino, Lino Guanciale! Wow! Grazie, grazie a voi. Grazie Andrea, grazie Stefano. Sei tornato? E beh, ma era impossibile non rispondere sì all'invito. Non sai mai che cosa starà per fare Lino Guanciale. E io a tutti coloro che come lui fanno un'operazione di indagine nel nuovo e in territori non garantiti vorrei dire davvero un grande grazie. Grazie agli attori coraggiosi. Grazie, grazie Stefano. Sono confuso dalla bellezza di queste parole. Tra l'altro questo è veramente un testo funambolico perché parlare in tre soltanto attori in scena un uomo, una donna e un gorilla di un terzetto amoroso purissimo e impeccabile nella lucidità con cui si scava in questo testo Zò che al piccolo di Milano metteremo in scena in primavera proprio con Sergio Blanco alla regia si scava che cosa significhi desiderare che cosa significhi rispettare la diversità tematizzando quella che forse è la diversità più forte in assoluto addirittura quella tra uomini e animali pensiamo che sia un gesto importante. Io vorrei proprio legarmi a questo concetto di amore perché noi abbiamo anche raccontato dei tuoi inizi anche l'altra volta tu hai iniziato col meraviglioso Gigi Proietti hai debutato quasi vent'anni fa può essere? Sì, sì, vent'anni fa con Romeo e Giulietta 18 anni fa con Romeo e Giulietta però tu hai sempre scelto il teatro e quello che a noi piace tanto e magari insomma ce lo puoi confermare tu stai seguendo davvero la strada che Gigi ha voluto per tutti i suoi allievi cioè unire quello che viene considerato l'alto con il basso unire il divertente con il serio far vedere che recitare è per tutti davvero e che diventa una scuola Sì, io credo che ci sia tanto bisogno di riflettere su che cosa significhi l'aggettivo popolare perché a seconda che uno ci mette ad avanti la P maiuscola e la P minuscola cambia moltissimo il senso e c'è bisogno che il teatro che è impareggiabile nel costruire comunicazione nel costruire legame tra chi sta qui e chi sta lì o tra voi che state lì e noi che stiamo qui è una tempesta di rizomi e di radici che partono ogni volta il teatro come mezzo così forte nel costruire comunità non possa che essere popolare cioè aperto a tutti il più inclusivo possibile la casa di ognuno non soltanto di chi sente di avere un palato più raffinato di qualcun altro che spesso è un inganno grazie Lino anche perché questa è la filosofia di Ricomincio dal Rai 3 e adesso c'è un attimo di pubblicità e dopo la pubblicità la danza torna nuovamente su questo palcoscenico con Luciano Savignano a fra un attimo grazie